Docca, cammina! Ma io sul lampo non c'è vostri sticcoli, d'accordo a docca! Ah! Ho ricetta! Qui vince l'ampezza a me! Lui è l'ambusante, ha fatto l'azione e ho la pionda! Eh! Lui vuole a durare gente! Lotto vuoi tenere i frori e i lampi! Eh! Eh! Ma che c'è da Nicolau? Vado a dare questa domanda! Eh! Da parte! E poi muro da parte! Vado a due! C'è dorma! C'è dorma! C'è dorma! E a me non c'è da dorma! Lui non c'è! E' andata come se io faccia il sito! A me non c'è da dorma! Eh! Eh! In modo che sei di noi a Parigi a San Mesa! C'ha saputo a crocchia di Paola! Bella gente! C'ha portato i piedi a compitare con i tuoi c'era! Tocca! C'è andata! C'è Paola! E' andata di crocchia! Ma! E' andata in testa! Eh! Grazie! Ma c'è la sua famiglia! E' la sua famiglia! Eh! E' andata come? E' andata come! Stai alla bella! Stai alla bella! Stai alla bella! Eh no! Che non importa! Eh! Intanto Paola tu non ti comprendi cosa fai! Tocca! 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 E' andata come? Stai alla bella! Tocca ticca! Tocca tu non ti comprendi! Tocca! Tocca! ya! Tocca tu ha lasciato un pezzo! Intanto Paola! Grazie. Buonanotte e buon riposo. Grazie. Già è pronto, la parola di te che è giustato. A modo a modo, metti, metti sui latieri. Non ti gasta, a chi è? Ehi! Ehi, no. Ma che cosa sarà raffinante ad entro? Ehi. Ma chi è? Ma bene, la serba come noi. Ehi, già è durato. e già è un rauro eeeh mia amore mia io devo mettermi a questa porta mia amore questa commissione è occupata a Ramon du da Pagatao però però sicuramente è morto del Dio e sprupa da nostra gata anche a lui a Pagatao scelte il suo spirito e il suo gruppo a Pagatao e come ti ha fatto il suo spirito che è il suo gruppo a Pagatao è tempo di gare stile a Pagatao 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 no ma che non è che tu fai sentrati ti devi andare a far ripetere pure a parlare di seghe prega Ramon prega no 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 quando vuoi quando vuoi mi senti che tu a me non mi devi toccare come adesso scelte il spirito a Ramon non mi tocchi e cosa ti contai? è il conto dei bucatori però non ho visto tutti i tempi a regolare dei bruci noi scelte quando pensi a Camposanto mi devi mettere i due lantieri e queste due flori scelte un cagato che hai fatto fatto con me che è un denaro di San Rosario eh tu e Donia Gila mi devi preparare una bella genna con picchi, vecchi e bionieri centenze di voto da Orrani e come ti ha detto? e come ti vai da papà che ti ha scelto il spirito? mi dobbiamo sforzare io che da papà vado hai il ruolo eh vado hai la prima ma io che la papà c'è una ragione noi la stesia e la sospolazione in questa disse spirito la gente sta gente non puoi provare ok? ma io adesso do un bambino ok adesso do un bambino no no è rotta no se cosa è male se non c'è riuscita con me ti puoi stare ragazzi, a traio cosa ecce? a cosa fare? i cazzo come pensi? dai, ora stavo a pausa se si viena terribili, che ti tocca da mare e rammut per la pesta vai e no, tasta questo bimbo a pesta a sassanù e pensa che a sassanù ci vuol dire bocate e dà ah, bocate e dà ma gustando per ora se davano a sua paganza a roda, eh, pare che te gustavo un se te a capè a mano entro e se te a funnale dev'è parecchia bella ma non c'è su, ci stocca sei caricato, carnetto sei caricato, carnetto questo mi foste nemmeno non testa, però con noi con Maria e tu? e te vai? eh, e non c'ha fatto nuda? ma, c'è per sentire che riesci a fare nuda oh, io sei più ricco che faccio sopra i compendi se tu mi hai nomi di hai mai oh, che cosa è maco, no? papà, questo papà, questo non c'è allora che caglio non c'è che caglio ma c'è che cagliare c'è che successe? anche dai un macchino e ora non c'è non c'è che cagliare non c'è che cagliare oh, che cagliare ma io pari potesse ma il capelli ma il capelli mi sono ma il capelli mi sono a me il capelli mi sono non c'è che cagliare ma non c'è ma la roba del tubetto va eita 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 non è come dire video casa il video caso eita 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 roschietti eita eita poteca eita poteca 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 tu hai un'ora che hanno fatto il stracolo? no 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 mi schio abba l'ora che avessi d'occavi se ti scorrò fuori non so perché non stava a vincere il gruppo di arramur eh ma sei un paese si eh no 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 all'ora che mi pare il pello vuoi vedere un mio eh no no che non vuoi e quando mai avresti? eh ma sei tutto bene milaniti oh Maria scianza è Nicolà è Nicolà èunes dai 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 ora do la gente deve essere così bella davvero un giro aiutami! Dicite di no! Che storia deve fare con questa storia che dà con la scoperta un uomo con l'altro sangue? E' pronto! Tocca la sindicata che scoperta su! E' a pensare a noi! E' a pensare a noi! E poi, una cosa di no! Mello ci sono di no! Si, già dovrei! Mello ci sono di no! Alla amore per il titolo! Grazie a tutti.